E allora qual è la direzione? Io voglio, la lancio io una provocazione adesso, io voglio Coldiretti alleata del Governo in questo progetto di Green New Deal. Io voglio che Coldiretti lavori con il Governo per realizzare un'Italia più verde. Questo cosa significa? Significa innanzitutto un principio cardine che voi avete a cuore, ce l'avete nel DNA, la cura dell'ambiente, del terreno.